Ben ritrovati e nuovamente assieme gentili telespettatori per questa edizione della telegiornale del Veneto orientale. In apertura parliamo di cronaca, cronaca giudiziaria che ci porta ad un terribile incidente stradale che lo scorso anno toccò la vita ad un padre di famiglia. Quell'uomo che era sull'autostrada nel territorio di Occhiobello fu investito da un 24enne di Motta di Livenza. In tribunale c'è stato il processo con il patteggiamento del 24enne Mottense. Sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. Vincenzo Sarchielli, operaio, aveva 42 anni e viveva a Disernia con la moglie e sei figli, uno dei quali piccolissimo, quando il 18 giugno di un anno fa è morto travolto da un camion in autostrada a Occhiobello, dopo che si era fermato sulla corsia d'emergenza con il furgone di lavoro ed era sceso per andare a recuperare il giubbotto, rimasto nel vano posteriore. Una tragedia che si è consumata all'altezza dell'area di sosta a quattro vie, che si trova circa un chilometro dopo lo svincolo di Occhiobello sulla corsia che va verso Padova. Alla guida del camion, che lo ha investito, un 24enne autotrasportatore di Motta di Livenza, Thomas Vivan, che ha patteggiato davanti alla giudice per l'udienza ai preliminari del Tribunale di Rovigo, Silvia Varotto, una pena di un anno, sospesa con la condizionale. È stata riconosciuta l'attenuante del concorso di colpa, visto che dai rilievi eseguiti dalla polizia stradale della sottosezione di Altedo Malalbergo è emerso che il furgone non si fosse fermato proprio entro la linea di delimitazione della corsia d'emergenza. Come pena accessoria, anche la sospensione della patente per un anno e dieci mesi. L'incidente è avvenuto pochi istanti prima delle 21. Sarchielli lavorava come cantoniere in una ditta che doveva eseguire un intervento lungo la A13, ma non nel tratto in cui è avvenuta la tragedia, bensì all'altezza dello svincolo di Monselice insieme ai colleghi, però alloggiava ad occhio bello ed aveva appena accenato prima di partire verso il cantiere per un intervento manutentivo ad un cavalcavia. Sarchielli era partito prima a bordo del furgone aziendale, un Renault cassonato con tanto di luci di segnalazione, che però quando si è fermato sulla corsia d'emergenza, nemmeno un chilometro dopo essere entrati in autostrada, erano spente. Ad investirlo proprio a cavallo della linea della corsia d'emergenza, un bilico al volante del quale si trovava il giovane camionista trevigiano, che si è accorto dell'uomo solo all'ultimo momento. Ha frenato, ma questo non è bastato per evitare l'impatto letale con il corpo del 42enne, morto sul colpo. L'investitore, sotto shock, ha subito chiamato i soccorsi, dimostrandosi comunque lucido nella sua reazione negli accertamenti di Rito e è stato anche sottoposto all'alcol test, risultando del tutto negativo. Cambiamo pagina, andiamo a Porto Bruaro e parliamo della Cereal Dox, un'azienda che sta sempre più lavorando e investendo anche nel territorio del Veneto orientale, soprattutto del nord-est, con Porto Bruaro in primis. Perché? Perché ha acquisito anche l'ex stabilimento del Pansac, di fatto da ormai da dieci anni, chiuso e da lì partiranno altri stoccaggi di cereali con nuove forze lavoro. Sentite. Si aprono concrete prospettive di rinascita per lo stabilimento ex Pansac di Summaga, chiuso da un decennio. Nei giorni scorsi è stato formalizzato l'acquisto del sito industriale da parte di Cereal Dox, gruppo vicentino del settore agroalimentare attivo nella prima trasformazione di cereali e semi oleosi destinati ad applicazioni in ambito zootecnico, alimentare, farmaceutico, cosmetico e tecnico. Fattore determinante nella decisione di operare l'investimento è la localizzazione dell'area nelle immediate vicinanze, sia dello stabilimento di via dell'agricoltura che dell'interporto. Il secondo nato tra gli stivimenti Cereal Dox, pensato e realizzato tra il 1998 e il 2000, rafforza quindi la sua specializzazione nella essicazione, stoccaggio e logistica di cereali convenzionali, avvalendosi di una piattaforma logistica sostenibile basata sul trasporto ferroviario. L'80% degli oltre 1000 treni merci che vengono movimentati dal gruppo Cereal Dox passa da Porto Gruaro grazie anche all'integrazione con la società Porto Gruaro Interporto che fornisce i servizi logistici in loco. Negli ultimi anni l'attività di Cereal Dox Porto Gruaro ha annotato il direttore dello stabilimento, Antonio Canzian, è cresciuta a ritmi sostenuti e sentivamo la necessità di avere nuovi spazi da dedicare allo sviluppo delle nostre attività tradizionali, anche se stiamo valutando la possibilità di avviare un nuovo progetto industriale, sempre collegato al core business della trasformazione dei cereali. Al momento c'è la soddisfazione di contribuire a rivitalizzare un'area produttiva di 45 mila metri quadrati, inattiva dal 2010, ormai faticente e vicina al completo degrado. Abbiamo commissionato ad imprese del territorio i primi interventi di sgombero e pulizia, oltre che di messa in sicurezza, e contiamo di essere pronti in tempo utile per la campagna di raccolta di fine agosto-settembre. Anche le prospettive occupazionali sono ottimistiche, prosegue Canzian. Attualmente lo stabilimento di Summaga dà lavoro a oltre 50 persone, tra dipendenti diretti e addetti dell'indotto. L'ampliamento porterà ulteriori incrementi. La scelta di Portoguaro si è dimostrata vincente. Attualmente la rete logistica si estende fino al cuore della pianura padana, grazie anche ai collegamenti con un altro polo logistico del gruppo a Fiorenzuola d'Ardè, in provincia di Piacenza, e coinvolge gli agricoltori di un'ampia area del Veneto orientale e del vicino Friuli Venezia Giulia. Oggi oltre 1.500 agricoltori conferiscono i loro raccolti nel nostro stabilimento Continua Canzian e nei centri di raccolta che collaborano con Cereal Dox, presenti a San Stino di Rivenza, Iesolo, San Michele Tagliamento e Sandona di Piave. Siamo ubicati in un'area avvocata alla produzione di cereali e beneficiamo di una posizione strategica. Questo rappresenta un valore per la gestione di filiere corte sostenibili e certificate che si riconducono a sistema green. A Meduna di Livenza, se vi trovate ad affrontare la viabilità del territorio a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia nel territorio di Meduna, attenzione perché i lavori sulla ponte dell'Livenza sono partiti, ci sarà un mese di passione. A Meduna, senso unico alternato e inizio dei lavori di manutenzione preventivata del ponte strallato sul fiume Livenza. L'intervento avrà una durata di circa 60 giorni. Per motivi di sicurezza, nelle sole fasi di attività di urna del cantiere, il transito sul ponte è regolamentato a senso unico alternato con impianto semaforico. C'è stato anche molto traffico in ora di punta verso le 17.30-18 e poi ci potrebbero essere sempre dei bis in ora di punta. Il lunedì mattina il sindaco Arnaldo Pittone insieme alla Polizia Locale e i tecnici regionali aveva eseguito anche un sopraluogo per organizzare il cantiere e la viabilità per problemi tecnici. L'inizio dei lavori è poi slittato. Si tratta di lavori già programmati da diverso tempo e finalizzati alla sicurezza della struttura ormai presente da una quindicina di anni, ha detto il primo cittadino. Installato un semaforo temporaneo perché è previsto un senso unico alternato sul ponte. In orario diurno il semaforo viene previsto per motivi di sicurezza. I tecnici eseguiranno un intervento di sostituzione delle travi. con altre travi in acciaio antisismiche. Si procederà poi alla dipintura del tronco centrale del ponte. Si tratta di una manutenzione preventiva necessaria. Nel primo pomeriggio dell'altro giorno sono comparse le insegne e il semaforo temporaneo. Ho chiesto di programmare una tempistica del semaforo con zona per limitare il più possibile i disagi agli automobilisti, spiega il primo cittadino. Il ponte nuovo era stato realizzato una quindicina di anni fa poiché il più vecchio e attivo ponte della Vittoria ormai era diventato insufficiente soprattutto per il traffico pesante. Lo stesso ponte della Vittoria su cui continuarono a transitare auto e moto venne chiuso qualche anno dopo perché non più sicuro. Dopo anni di chiusura venne poi riaperto nel febbraio 2018. l'amministrazione di allora scelse di renderlo passerella ciclopedonale. Tra le voci dissonanti all'epoca ci fu quella dello stesso Pittone che invece aveva spinto per l'apertura almeno alle auto e almeno a senso unico in direzione del centro. E ora andiamo a Jesolo per parlare di It Jesolo, l'opportunità di catturare i turisti attraverso la enogastronomia locale. Beh, una offerta che a quanto pare ha preso il via. Una nuova tappa, i ristoratori ci credono sempre di più, sono convinti, sono entusiasmati, ci mettono la passione e noi crediamo di valorizzare il territorio, prodotti e produttori. Crediamo nella cucina di stagione, crediamo nella cucina di territorio, nella cucina nostra tipica che rispetta i prodotti. E questa sera siamo insieme alle amici del consorzio di Asiago, del formaggio di Asiago, perché insieme partecipiamo a Fish and Cheese, una manifestazione interessante che si tiene a Jesolo e che ha consentito ai nostri ristoratori di sbizzarrirsi nell'inserire nel loro menu abituali un piatto dedicato a Fish and Cheese, cioè un piatto in cui pesce e formaggio, con la fantasia loro, vengono messi insieme e degustati dal pubblico. Siamo contenti, vogliamo andare avanti, vogliamo crescere ancora di più e vogliamo diventare, come già sensiamo di esserlo, Territory Ambassador. Questa è la missione che i ristoratori si sono posti per promuovere l'intero territorio del Veneto. E poi non dimentichiamo che noi abbiamo inventato l'internet in menu. Tutto questo si legge su internet, su una piattaforma e con il mitico QR code che nei nostri menu è sempre presente. Torniamo a Portuguaro, andiamo a Pradipozzo, qui si è tenuto il pranzo sociale degli anziani, era presente anche inevitabilmente l'assessore Geronazzo. Ci troviamo a Pradipozzo durante proprio la festa, ormai clou di questa frazione del comune di Portuguaro. Siamo con Geronazzo, assessore di questo comune, ma lui è di Pradipozzo e ci tiene a dirlo. Oggi voi ospitate questa importante manifestazione che è l'incontro annuale, il pranzo sociale degli anziani del comune di Portuguaro, ma anche della zona. Una importante partecipazione. Vediamo tantissime persone che vogliono trascorrere un pomeriggio, una giornata in serenità. Lei, dal punto di vista dell'istituzione comune, cosa pensa di questa iniziativa? Cosa penso? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Penso che come assessore questa sia una delle cose più belle che il comune possa organizzare, perché raggruppare la nostra gente tutta assieme, senza vincoli, senza niente, fa passare una giornata spassionata, in allegria. Si può fare un po' di ballo dopo, quindi la giornata dell'anziano che qui a Pradipozzo è consolidata, è già stata ospite per 4-5 manifestazioni. Quindi io come paesano anche pradipostese mi sento orgoglioso di avere come ospite della mia piccola frazione di Portuguaro e anche la comunità anziana di Portuguaro e anche dei comuni limitrici. Che dire? Speriamo che il prossimo anno questo incontro continui come amministrazione. Siamo sempre solidali e siamo sempre pronti a capire tutte le esigenze dei nostri concittadini. Pertanto questa associazione che ha attraversato un momento di difficoltà, che lo sta superando con grande sacrificio, con grande fatica, con grande impegno, soprattutto da parte di tutti gli anziani di questo territorio, lei ha affermato, ha fatto una promessa che il comune sarà sempre vicino a queste iniziative. Sì, il comune è sempre stato vicino a questo tipo di iniziativa, al centro culturale Sandro Pertini, sempre, prima, oggi e domani, perché questa è la nostra gente e questa gente ci ha aiutato a crescere, con loro Portuguaro è diventato grande, oggi noi non possiamo non ricordare che i nostri concittadini sono gli anziani, perché se la popolazione è giovane abbiamo avuto bisogno anche degli anziani. Il nostro consorzio ha tra i compiti principali proprio quello di promuovere tutto ciò che succede sul territorio. Gli eventi sono molto importanti perché sono una forma di promozione, una forma di promozione per i nostri ospiti, ma è anche bello coinvolgere tutta la popolazione, quindi noi ci facciamo, tra virgolette, carico un po' di promuovere tutto ciò che le diverse organizzazioni qua hanno pensato di fare per rendere più bella la vita estiva, un pochino più fresca. Il Cavallino Treporti sta diventando anche molto noto con queste marce, con queste camminate veloci, chiamiamole così per il momento, ma con ambizioni anche molto più importanti, quindi la Sunset Run, un prodotto assolutamente nuovo, che sta riscontrando un successo importante per un territorio come il nostro, che chiaramente è molto bello, è fantastico e anche i runner stessi vengono qua molto volentieri proprio perché oltre alla marcia gradiscono molto il tipo di territorio che attraversano durante la loro corsa. Sono anche quelle passeggiate veloci, se possiamo definirle così, che i runner non me ne vogliano, ma dove vengono coinvolte molto le famiglie che sono poi il punto di riferimento per Cavallino Treporti, quindi i nostri ospiti sono rappresentati molto da famiglie. Sabato 15 giugno a Cavallino, in piazza Santa Maria Elisabetta, avremo la seconda edizione della Sunset Run, con partenza e arrivo in piazza Santa Maria Elisabetta. Alle ore 16 aprirà lo Sport Village, poi la partenza della corsa sarà alle 19.30. Prevediamo la partecipazione di mille tra corridori e camminatori. Alcuni campeggi, anzi diversi campeggi, hanno acquisito delle iscrizioni per poter fare dei gruppi di cui parteciperanno proprio con il proprio nome alla manifestazione. Il Paglio Remiero è nato per collegare attraverso la voga con un'imbarcazione tipica del luogo che accompagnava, usata per portare gli ortaggi dalle nostre terre fino a Venezia, è usata oggi per rivivere questa tradizione attraverso la voga. Abbiamo quest'anno arricchito la giornata con una serie di regate e manifestazioni nello spazio acqueo adiacente alla piazza di Cavallino. Partirà dalle 15 del pomeriggio fino a tardasera. Ci sarà poi anche l'opportunità di apprezzare, di ammirare quello che quest'anno sarà il ventesimo Paglio d'Arte che si tinge quest'anno di rosa perché dopo molti artisti noti di sesso maschile, quest'anno la quota rosa ha preso forza e sarà appunto l'artista Ornella Luvisotto a consegnarlo poi alla contrada che vincerà la regata del Paglio Remiero. Cavallino Treporti quest'anno avrà oltre 150 eventi. I primi eventi saranno qui a giugno e sono il 15 giugno la Sunset Run, una manifestazione sportiva al tramonto. E poi avremo il giorno dopo, il 16, il Paglio Remiero, la voga alla Veneta nella sua declinazione più bella nella laguna davanti alla piazza di Cavallino. E infine Sand & Sound, 21 giugno, la festa della musica in spiaggia, 13 chilometri di arenile, 30 postazioni, 150 musicisti ed oltre. Quindi una grande soddisfazione. Il comune di Cavallino Treporti ha avuto già dei riconoscimenti per questa celebrazione. Noi siamo molto fieri che oltre al sole, alla spiaggia bellissima, al mare pulito e alla laguna, ci sia anche la cultura e la musica. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna per Foto Reporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, a voi tutti i telespietatori per averci scelti in questa nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo e ritorneremo con le altre news. A risentirci.